E' pienamente in corso una iniziativa della regione per dare un aiuto alle imprese, alle aziende turistiche che vogliono assumere giovani. Abbiamo stanziato 16 milioni di euro per consentire l'occupazione di 2.000 giovani a tempo indeterminato. Il bando è partito dall'8 maggio. Il bando regionale prevede 7.000 euro di contributi per ogni assunto a tempo indeterminato. Un gestore di albergo che vuole assumere un po' di personale ha un aiuto importante da parte della regione. 7.000 euro di contributo per tempo determinato. 2.500 euro di contributo per un'assunzione a tempo determinato. 4.500 euro di contributi per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato. 2.500 euro per ragazze e ragazzi che vanno a fare un tirocinio presso una struttura turistica, una struttura alberghiere. 3.500 euro di contributo per un'assunzione a tempo indeterminato. Cerchiamo, per quanto possibile, di dare una mano a chi cerca lavoro, di incentivare le aziende che possono occupare nuova forza lavoro. Ci sembra cioè di rispondere in maniera seria a un'emergenza sociale che è pesante oggi nel nostro Paese e nella nostra regione.